a tutti quanti nella nostra infanzia è stato regalato almeno un fumetto in seguito poi una volta cresciuti ce li siamo comprati con i nostri primi soldini finendo poi nel diventare adulti per perderli o peggio ancora buttarli via esistono però dei collezionisti che non hanno mai smesso di acquistarli diventandone dei profondi conoscitori oggi abbiamo fatto visita a gabriele un super appassionato che ci ha spalancato le porte della sua immensa collezione andiamo conosciuto ciao gabriele e grazie del tuo tempo arrivare qui si respira quell'aria degli anni 70 80 quando andavi in edicola e comprare un fumetto quindi lo conservavi per bene poi non pensavi a un certo punto di arrivare a questi numeri te invece hai avuto una passione differente diciamo che mia mamma andava all'edicola a comprare il fotoromanzo e io ci andavo dietro e quando arrivavo la pianin pianino ha cominciato a dirmi ti interessa qualcosa puntai zagor zagorito con lo spirito con la scura è proprio lui praticamente c'era un uscita l'originale della collana zenith e la ristampa con la scritta rossa e ogni 15 giorni una settimana sì una settimana no io mi portavo a caso uno zagor andavo ancora all'asilo non sapevo leggere quindi quando sono andato a scuola e ho imparato a leggere mi sono riletto tutti i fumetti che avevo anche con le parole quindi a certo punto ne cominci a comprare ma non li butti invece li tratti bene da subito a dire la verità il tempo qualche segno lo lascia già di suo a cinque anni non c'hai la cura maniacale che c'hai a 20 30 40 quando vedo i numeri passati diciamo quelli degli anni 70 proprio vedo che sono un po più rovinati ma nei loro fasi non lo stesso li tengo li tengo così negli anni quanti nei raccolti parliamo solo di fumetti poi dopo parliamo di libri l'ultima volta che avevo fatto un conto il conto della serva passavo i 30 mila però è un po di anni fa direi che si potrebbe venire a parlare circa 50 mila albi e riviste che mi dicevi prima tu hai raccolto sia la prima edizione e anche la seconda e la terza di alcuni questa è la partita del passare del tempo nel senso che io compravo alan ford l'albo poi dopo che magnus passa ad altre iniziative tipo lo sconosciuto la compagnia della forca gli ho sempre comprati tutti poi col tempo magnus diventa un colosso e quindi diventando un colosso gli editori lo ristampano in mille salse e io ricompravo tutto sempre forse anche soltanto per una copertina inedita oppure per una introduzione del tar luminare del fumetto anche solo per una paginetta io volevo anche quello parliamo di tex a me quando gallep ha smesso di disegnare tex mi è scaduto in qualche modo i disegnatori muoiono quindi viene tex ha avuto 23 disegnatori che dopo gallep adesso vado un po memoria senti lo stacco pure pensi che sia una normale evoluzione del del fumetto allora io penso che tex sia gian luigi bonelli e gallep però mentre tex ha la possibilità volendo di essere eterno i suoi creatori no dove per cui è normale che per continuare a far vivere il personaggio qualcosa debba cambiare non mi interessa che sia disegnato il personaggio che lui ha creato sempre nella stessa maniera anzi io adoro le interpretazioni di personaggi che nulla hanno a che vedere con quel personaggio cosa ne pensi invece che hanno colorato tex è uscito una serie ridicola molti anni fa che hanno ricolorato tutte una volta c'era il 100 il 200 300 penso di averli fino al 400 quei quattro volumetti a colori poi li hanno colorati è un'operazione commerciale o avevamo voglia di vederli a colori per me è un'operazione commerciale e punta sempre sul collezionista malato se l'ha in bianco e nero lo vuole anche a colori però per me è tex in bianco e nero ovvero c'è un tex che nasce a colori e quella è meglio a colori perché è nata a colori ma il tex nato in bianco e nero quindi l'artista ha pensato in bianco e nero per disegnarlo poi colorato diventa un tex dal mio punto di vista un po impastrocchiato direi così e io lo preferisco in bianco e nero in italia avete una rete che vi conoscete fra di voi oppure siete un po ognuno va per la sua strada come collezionisti siamo in tante ci conosciamo ci vediamo alle fiere poi dipende anche che cosa collezioni perché allora se parliamo di magnus ci sono 100 200 persone che collezionano di ogni di tutto e di più e ci conosciamo ci troviamo andiamo a pranzo a cena è nato il magnus de a castel de rio un po per colpa mia anche per questi motivi diciamo merito quando si fa cultura non è mai una colpa credo sia un merito e oggi ne facciamo veramente poca però vedi c'era la voglia di trovarci a castel de rio il posto scelto da magnus per venirci a morire possiamo dire arrivò nel 89 ci ha lasciato nel febbraio del 96 veniva qui fin da ragazzino insegnava a imola alle carducci insegnava a disegno al liceo sempre anche a imola la domenica spesso tornava qui in ballata se non sbaglio ha girato alcun piatto per una sagra di castel del rio poi anzi si ha fatto il piatto della sagra dei marroni dell'anno 1995 l'anno prima di morire fumetti diciamo di quelli per adulti e c'è un mercato esiste nei qualcuno ti si è appassionato a queste cose oppure è una serie b che non fai no no io compro tutto diciamo che magnus li ha disegnati e per forti cose sono arrivato anche lì lo stesso hanno fatto certi altri miei amici il compianto giò romanini che poi il braccio destro di magnus hanno creato i loro personaggi mi viene in mente necron per quanto riguarda magnus mi viene in mente per quanto riguarda romanini ulula io li ho comprati dopo negli anni dopo perché negli anni 70 ero troppo piccolo mi vergognavo più che altro come oggi il mercato del fumetto si disegna ancora oppure con l'avvento del digitale o si fa tutto il computer oppure è rimasto di nicchia ma io direi che sta un po cambiando e ci sono varie scuole di pensiero diciamo che quelli della mia età la maggior parte vanno ancora con gli originali a matita inchiostro e colori tanti e soprattutto i giovani hanno cominciato con la tavoletta digitale e la tavoletta permette di non buttare via niente si torna indietro invece io ho ereditato l'archivio del povero gianni degli sport eventuri ho visto delle tavole che sono state rifatte dieci volte che non le buttava via ce le ha lì ma tu non capisci perché le ha rifatte però lui sì quando mi rifugio qui di sotto e comincia a guardarmi attorno ecco io ho una compagnia la compagnia di persone che non sono più qui con noi però attraverso le loro opere tu li palpi ancora e di qualche modo entri nel fumetto questo da sempre ma anche con il giornaletto io se leggevo zagor ero zagor non mi sono mai sentito cico ma come nessuno volesse robin per citare una canzone di cremonini penso che sia normale che uno si immedesimi sempre del personaggio più importante poi ti dirò di più ho cominciato a scrivere qualche fumetto cercando di sviluppare dei personaggi se tu vuoi creare un personaggio devi dargli uno spessore psicologico quindi una personalità perché è attorno alla sua personalità che il personaggio esiste io penso che in tutti quelli tutte quelle storie che ho realizzato in tutti i personaggi che ho inventato mi ci sono sempre messo dentro io e penso che qualsiasi artista faccia così quindi tu hai inventato dei personaggi quindi hai fatto testo e grafica o hai fatto solo no allora il buon lucio filippucci ma sempre detto che ho fatto bene a smettere di segnare io siccome delle volte pensavo di avere delle buone idee con le storie che ho realizzato se no non le avrei costruite certo e ho sempre voluto trattarle bene le mie storie ho sempre cercato degli artisti che per me fossero bravi capaci il meglio che ci potesse essere poi purtroppo essendomi sempre autoprodotti quindi essendo il finanziatore ho avuto dei tempi lunghissimi però esistono i tuoi fumetti si qualcuno è stato pubblicato ce ne sono alcuni ancora qui da pubblicare che forse un giorno li pubblicherò non ne ho questa necessità di pubblicarli perché tanto io li ho geletti sarebbe esatto però facciamo la seconda edizione qualcosa in più che non è ancora scritto no non sono contro il pubblicarli però li ho sempre fatti per me ecco questo vuol dire quindi per il piacere personale in fondo vogliamo raccontare storie che vanno perse oppure comunque creare interesse oggi la cultura come dicevi quando ci siamo sentiti per l'intervista è sempre meno facciamo fatica a fare cultura sembra che facciamo fatica a fare cultura ah e come ti ho detto a me viene un po rabbia quando vedo gente che non spenderebbe mai 20 euro per un libro quando io ho comprato solo dei libri e si spendono due milioni di lire per un telefono ah certo ti dirò che delle volte anche da ragazzino ho mangiato poco per comprare il libro e da ragazzino cosa pensavi di fare da grande ah lì niente c'era il discorso del geometra perché in famiglia gli zii mio padre e quant'altro facevano lavori di tipo tecnico io non volevo dar loro una delusione quindi mi ero fissato per fare il geometra e poi diciamo che forse dopo mi son pentito c'è ci sono dei fumetti che non hai e che vorresti avere o qualcuno che ha in particolare che ci tieni più degli altri diciamo che quando un fumetto mi interessa prima o poi arrivo e lo compro c'è un fumetto che io ritengo che per me sia il più importante ed è il lunario di Magnus il lunario è un fumetto sulla valle del San Terno che Magnus ha realizzato a me piace dire per sé in realtà fu pubblicato in un'agenda pubblicata da granata press quindi dal suo amico Luigi Bernardi in cui lui realizza alcune illustrazioni e cinque storie cinque storie sulla valle del San Terno in una c'è Castelderio e nelle altre ci sono tutte le frazioni minori rappezzo per me quella è l'opera a fumetti più importante il fumetto che avrei voluto scrivere io il fumetto a cui mi sono sempre ispirato raccontami un tuo sogno se io riuscissi a creare un piccolo museo una struttura che possa contenere il tutto questo mi darebbe una certa sicurezza che il tutto potesse avere un domani sì un domani non finisca con me ecco sì perché è quasi assurdo che noi spendiamo come dicevi prima mille euro quindi due milioni delle vecchie lire per un telefonino cellulare e non copriamo un libro eh sì la maggior parte della gente di oggi è così poi dopo però mi piacerebbe andasse avanti che non finisse con me questa è la cosa più importante se no diventa vano tutto il lavoro che ho fatto tutta la mia fatica per mettere insieme questo che è un bel pezzo della scuola bolognese soprattutto tantissimo no qui c'è da pesare adesso come dire in tv rende meno ma è veramente infinita abbiamo delle scansie con tre file di volumi bene Gabriele grazie quindi concludiamo dicendo anche che il fumetto sicuramente ci sopravviverà sopravviverà grazie a te grazie a te